Più di 250 natività raccolte in 15 anni di certosina ricerca. Ecco la collezione di presepi di Maria Gabriella Persiani. Sarà circa una quindicina di anni che è iniziata in maniera seria la collezione. Vengono da varie parti del mondo, alcuni sono stati acquistati qui a Ravenna come tutti questi qui andini che si trovano con facilità, mentre altri arrivano dall'estero, ad esempio questo è armeno di legno di albicocca e mi è stato portato da un'amica. Poi ci sono i presepi che vengono da Israele, sono piccolini perché dopo si dove sta nelle valigie. Questo è il più carino secondo me. E poi andando in giro per mercatini all'estero, così, quest'anno ho acquistato questo in Baviera. Questo e questo qua giù. Poi ci sono quelli comprati in mercatini fatti dagli artigiani delle Alpi in legno e tanti regali di amici. Adesso tutti lo sanno e tutti quanti portano il loro contributo. Ogni anno quindi preparare questa parte della casa per il Natale deve essere molto impegnativo. In che periodo iniziate all'incirca a preparare questo settore? Quest'anno abbiamo iniziato a fine novembre, presso poco attorno al 25 novembre, perché stanno tutti quanti stipati in un armadio, diciamo, e poi vengono esterati un po' alla volta e disposti secondo l'ordine che mi ritengo più opportuno. Perché ogni anno cambia la disposizione, ecco. Ce n'è uno a cui è particolarmente affezionata? Oppure sono tutti figli suoi, come si suol dire? Sono tutti figli miei, io amo quello particolare, questo qui che mi è stato regalato da Don Giorgio. Questo. Il resto, insomma, mi piacciono tutti e non ce n'è nessuno da mettere, diciamo, alla mano sinistra. Grazie a tutti.